Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati al Corso Facile di Maglia, la maglia di Antonella. Oggi volevo farvi vedere un modo alternativo rispetto alle solite coste 2 a 2, nel senso che adesso ho già preparato questo piccolo campione per farvelo vedere all'inizio, dopo lo vedremo insieme, dove in pratica io l'ho chiamato coste a nodo di cravatta, perché mi sembra che con queste linee orizzontali che creiamo, sembra praticamente facciamo una cravatta. Allora, questo l'ho preparato ma adesso andiamo a farlo insieme. Dunque, ho preparato come sempre e prima di andarlo a vedere, invito come al solito chi non fosse iscritto a cliccare il tasto Iscriviti e ad attivare le notifiche. Allora, ho preparato quindi il solito foglio in modo tale che voi possiate avere il tutto sotto mano. Si lavora su un numero multiplo di 4 maglie più 2 maglie di vivagno. Allora, il primo e il secondo ferro sono ferri di preparazione. Allora, cosa significa? Che poi ripeteremo dal terzo ferro. Allora, come si fa? Un dritto, che è la mia maglia di vivagno, e poi sono due dritti e due rovesci che si ripetono e si termina con la mia maglia di vivagno. Il secondo ferro, al contrario, avremo un dritto e poi due rovesci e due dritti, si ripetono e poi si termina con la maglia di vivagno. Ma, di fatto, queste sono le solite coste che noi facciamo due dritti e due rovesci. A questo punto, sul terzo ferro, invece, inizia la lavorazione. Per cui faremo il nostro dritto di vivagno, poi un dritto, un aumento preso da sotto, adesso poi lo vedremo, un dritto di nuovo e poi dobbiamo accavallare la prima maglia, che abbiamo delle tre, sulle due lavorate. E poi due rovesci. E poi si ripete, in pratica, con questa lavorazione e si termina con un dritto di vivagno. Il quarto ferro, invece, è di nuovo al rovescio, adesso lo vedremo, un dritto di vivagno, dove avremo il rovescio facciamo il rovescio, e dove abbiamo il dritto facciamo il dritto. E poi si ripete, in pratica, dal terzo ferro. Quindi, i primi due sono semplicemente di preparazione del nostro lavoro. Allora, andiamo a vedere come fare. Dunque, metterò, che così facciamo, lo vediamo insieme, 16, allora, 1, metto i punti e potete andare, poi vi metto il link per andare a vedere come mettere i punti rapidamente. metterò 1, aspettate, 2, 3, 4, 5, allora, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, per cui, multiplo di 4, più 2 di vivagno, 12, 13 e 14 punti. Allora, abbiamo detto che il primo ferro, che è un ferro di preparazione, io il primo punto lo passo, che è il mio vivagno, e poi lavoro semplicemente due dritti e due rovesci. Quindi, due rovesci preso da sotto, e poi due dritti normali, due dritti e due rovesci. Anche qua vi lascio poi eventualmente come fare il dritto rovescio. e termino con due rovesci e un dritto, che è il mio vivagno. Il secondo ferro, che è di preparazione, farò allora dove ho il rovescio faccio il rovescio, dove ho il dritto faccio il dritto. Quindi, la prima è di vivagno, qui ho due dritti e due rovesci. A seconda del punto che avete, cioè dovete, il secondo ferro, creare la costina, lavorare i punti come li troviamo. Allora, due rovesci e poi un dritto. Ok. A questo punto, il terzo ferro è quello che ci impone di stare un attimo più attenti, perché è dove dobbiamo fare praticamente il nostro nodo di cravatta. Allora, il primo lo passo, che è il mio vivagno, e poi dobbiamo fare, allora, un dritto, poi abbiamo un aumento preso da sotto e poi un dritto. Allora, cosa vuol dire? È come quello che facciamo negli aumenti, cioè questo filo che è in mezzo ai due, lo metto sul ferro di sinistra, come se alzasse un punto, e lo prendo a maglia ritorta, cioè lo prendo da sotto, perché altrimenti mi si crea un buco, per cui non lo prendo così, ma lo prendo da sotto. Scusate, così. All'inizio può essere un pochino più difficile, ok, così, preso da sotto e poi lavoro ancora un dritto. E a questo punto devo accavallare, siamo qua, la prima maglia sulle due ultime due lavorate, quindi vuol dire che la prima maglia che ho lavorato dei miei due dritti è questa, e accavallo questa maglia sui due che ho lavorato così. In questo modo creo il mio nodo della cravatta. Poi due rovesci e di nuovo un dritto, dobbiamo prendere il punto tirato su da sotto, lo lavoriamo a maglia presa ritorta, quindi da sotto così, e poi di nuovo un dritto e poi dobbiamo accavallare la prima maglia che abbiamo lavorato del gruppo di due, che diventano tre, e le accavallo sulle due, e poi ancora due rovesci. E quindi siamo nei dritti, un dritto, dobbiamo prendere questo filo, metterlo sul ferro di sinistra e lavorarlo praticamente preso sotto a maglia ritorta, così, a dritto, e poi di nuovo un dritto, e poi accavallare la prima maglia del gruppo che abbiamo fatto nei dritti e metterla sulle due, e poi due rovesci. E poi abbiamo il nostro dritto di ritorto. A questo punto siamo al quarto ferro, noi dovremo lavorare come troviamo le maglie, e per cui io ho un dritto passato, qui ho due dritti, lavoro i dritti, poi qua dove ho fatto l'accavallata, ho due rovesci, e poi di nuovo due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci, e poi un dritto. Allora faccio un altro ferro con voi, e poi vediamo il resto. A questo punto devo ricominciare dal terzo ferro. Cosa vuol dire? In pratica, il primo lo passo, qua dove ho il gruppo delle due maglie a dritto, faccio la prima, alzo il filo, lo metto sul ferro di sinistra, lavoro la mia maglia che ho alzato a dritto ritorto, quindi presa da sotto, e un dritto, e poi a cavallo la prima maglia sulle altre due, e poi due rovesci, e di nuovo dove un dritto, alzo la paglia, faccio, la prendo da sotto, un dritto, e a cavallo, due rovesci, un dritto, alzo la maglia, faccio un dritto preso da sotto, un dritto, e a cavallo, e poi finisco in questo caso con due rovesci, e un dritto, e poi ricomincio nel senso che, sul rovescio, a seconda di come troverò le maglie, lavorerò o dritto o rovescio. Allora vi faccio vedere quindi, di nuovo quello che avevo preparato, e vi faccio notare che non è comunque un punto double fast, perché dall'altra parte noi troviamo questa è la situazione, ma questa è una bella alternativa al fare le coste due a due un pochino diverse. Vi dico una cosa, allora io in questo caso ho fatto su ogni dritto poi questa cavallata per avere questo nodo di cravatta, volendo uno può fare qualche punto di costa normale, e allungare eventualmente il mio nodo della cravatta, questo praticamente è molto a piacere. Bene, spero che anche questo vi possa essere d'aiuto per sviluppare i vostri progetti, e come sempre vi chiedo, se vi è piaciuto, di mettermi un like, di lasciare se volete i commenti, e per chi ancora non è iscritto è invitato a farlo. Ciao a tutti e buon lavoro! Ciao a tutti!